Francesco Palladino, dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla 44esima da Sue Giù, però voi state lavorando da circa un anno perché non vi fermate mai, dunque a Step si arriverà all'evento della gara, insomma la gara per tutti. Sì, ormai siamo proprio nel pieno dell'impegno, tra due settimane avrà luogo l'edizione 44 della Sue Giù e diciamo che a partire dal 4 novembre sarà possibile effettuare l'iscrizione presso numerosi punti vendita, l'elenco dei punti vendita è presente sia sui manifesti ma soprattutto sul sito della Virtus che è consultabile per ricavare qualsiasi informazione inerente alla manifestazione. Ecco, come sempre poi chi si iscrive prima ha naturalmente uno sconto, insomma anche per permettere a voi di organizzare al meglio, questo va detto. Esatto, allora dal 4 all'8 novembre il costo del biglietto sarà di soli 6 euro, dal 9 all'11 sarà di 8 euro e il 12 novembre, il giorno della gara sarà di 12 euro. Questa differenza di prezzo deriva, come hai detto tu, dal fatto che noi abbiamo bisogno per una perfetta organizzazione di avere già un'idea dei numeri che dovremmo affrontare. Quindi cerchiamo comunque tra virgolette di scoraggiare le persone a venire la domenica della gara a iscriversi perché sarebbe per noi a livello logistico e organizzativo impossibile da gestire appunto. Con tutto che poi magari ci sono le persone che magari vedono anche una bella giornata, nonostante voi non vi fermate per nessun motivo, però magari vedono una bella giornata e arrivano puntualmente la domenica mattina. Ah certo, quello è inevitabile. Noi comunque invitiamo le persone a affidarsi della buona sorte che sempre fino ad ora ci ha accompagnato e invitiamo tutti quindi a partecipare a questo evento che poi non è altro che una festa della città. Assolutamente perché mi hai anticipato, è un segno della città, un segno che ci distingue perché sappiamo che poi a novembre, insomma seconda domenica di novembre, è il giorno della Soeggiù. Quindi voglio dire bravi negli anni voi ad avere continuità e soprattutto a creare questa anche aspettativa. Sì, quello che hai detto è così. Da un lato ci riempie di orgoglio come Virtusini, da una parte invece come Campobassani ci rammarica perché ci piacerebbe avere una città in cui gli eventi culturali, sportivi, le manifestazioni di qualsiasi genere siano più numerosi. Quindi collegare Campobassi soltanto ai misteri, la processione, la Soeggiù è un po' triste diciamo. Noi vorremmo vivere in una città che offre al cittadino molte più attività e iniziative.